Siamo fieri della protezione civile e Piacenza merita il Polo Nazionale. Sono le parole dell'assessore Paolo Mancioppi dopo la visita che ha effettuato sabato scorso al deposito di Via Pennazzi. Ho già avuto modo di confrontarmi con l'assessore regionale Paola Gazzolo, ha spiegato Mancioppi, in merito alla realizzazione del futuro Polo Nazionale al Montale. Un percorso che questa amministrazione seguirà con attenzione, dice, perché crediamo fortemente che Piacenza possa e debba diventare un punto di riferimento per la protezione civile italiana, valorizzando sia la collocazione geografica strategica, sia l'esperienza e la capacità del nostro coordinamento territoriale. Esperienza che proprio in questi giorni è stata messa a disposizione per interventi mirati alla prevenzione degli incendi in Puglia e sul territorio locale. Nell'incontrare i volontari appartenenti al Corpo degli Alpini, l'assessore ha voluto simbolicamente ringraziare tutti coloro che si impegnano per la protezione civile, mettendo a disposizione a concluso tempo, passione e competenze a protezione della collettività.